Ho conosciuto Ernesto Cardenal, poeta monaco, latino-americano, nicaragüense. Nel 2004 eravamo a Firenze, alla fondazione Il Fiore, diretta dal poeta Alberto Caramella, e avevo promosso una rappresentazione teatrale, Il Serpente più mato, questo poemetto di Cardenal, tradotto in italiano liberamente, abbastanza liberamente, da David Maria Turoldo, altro monaco poeta, e recitato da tre attori milanesi, Roberto Carusi, Fabrizio Di Giovanni e Lorella De Luca. Fu una festa considerevole. Ricordo Cardenal era in compagnia della sua guardia del corpo, Bosco, Bosco, dal nome di San Giovanni Bosco, credo, il cognome che diventa nome, un omone che stava sempre in fondo alla sala, dormiva, quando non dormiva mangiava e prendeva appunti sulle ricette, ricordo in particolare una parmigiana che lo aveva stravolto, lo aveva sconcertato dalla delizia. Beh, devo dire subito, siamo un terzetto di questi monaci scrittori poeti, il terzo è Thomas Merton, che sta invece negli Stati Uniti, quello è un narratore, ricordo, che ha, come dire, deliziato, un po' promosso la mia adolescenza, questi sono un po' più giovani, Turoldo era del XVI, 1916, e Cardenal è morto domenica, è morto adesso a 95 anni, quindi per fare i conti non sono bravo, però viene fuori la triade dei personaggi. Anche questa storia un po', mi ricordo, Merton morì, credo, a Tokyo a un convegno e una strana morte, qualcuno abbia da ridire, perché fu un rasoio elettrico a fulminarlo e non tutti accettavano, avevano accettato questa versione. Con Cardenal ci conosciamo dunque a Firenze, lui, sapete, è stato teologo, teologo della liberazione, teologo rivoluzionario, aderito al movimento sandinista contro il dittatore Somoza in Nicaragua e che vinsero, peraltro, con la loro lotta, divenne poi presidente Ortega, quindi amico di Cardenal, ma dopo qualche anno, dopo un po' di anni, le rivoluzioni, si sa, si stemperano un po' e Cardenal, che era un uomo rigoroso, prende le distanze, e prendere le distanze dai poteri è sempre molto complesso, molto complicato, molto, molto anche rischioso. Cardenal, che nel frattempo aveva fondato un luogo solentiname, era un isoletto in un lago dove curava in un albergo i bambini malati di cancro, naturalmente venne accusato proprio di profittare economicamente, accusa che lui forse aveva invece mosso prima ai suoi accusatori, e quindi si sa che la calunnia è un venticello, eccetera, eccetera. Fatto sta che Cardenal, che era stato ministro della cultura del governo sandinista e che venne al suo tempo per sospeso di Vinis, Giovanni Paolo II, proprio per questa sua scelta politica, si trova a questo punto a solentiname, pensate che solentiname venne addirittura bombardato, lui è uscì illeso, per fortuna, ma poi verrà processato e emesso gli arresti domiciliari. Siamo nel 2008 e in quel caso lì io ricordo con alcuni amici promossi tentammo di tenere un cerino acceso perché con le dittature se si spengono completamente le luci possono accadere delle sorprese, è vero, Pasolini ci insegna bene insomma come possono finire i poeti quando sono indisciplinati rispetto ai poteri. e così mi ricordo che promossi un piccolo tour poetico in suo sostegno che partì a Milano, fece tappa ancora una volta a Firenze ancora la fondazione Il Fiore di Alberto Caramella e da lì poi a Roma dove si concluse. Ecco, siamo a questo punto nel 2008 successivamente Cardenal viene liberato e io avrò la fortuna di rivederlo, di riabbracciarlo l'anno successivo. Siamo nel 2009 al Festival Mondiale della Poesia di Medellin in Colombia e poi di rincontrarlo l'anno successivo siamo nel 2010 e questa volta il Festival è a Granada e siamo proprio nella sua terra, nella sua Nicaragua. lo vedrò lì è l'ultima volta che vedo Cardenal che nel frattempo ovviamente e siamo dieci anni fa quindi aveva già 85 anni all'ora ci sono una serie di documenti fotografici che a rivederli adesso ovviamente sono anche abbastanza commoventi. Poi io avrò notizie sue attraverso l'amico medico accademico italiano Giuseppe Masera suo amico che lo va a trovare più volte e ovviamente nel resoconto diciamo così al ritorno fa dei racconti che sono sempre come dire più ritirati, delicati parlano di un cardenal che sta andando un po' verso il tramonto lentamente ma inesorabilmente verso il tramonto e però nel frattempo in Italia esce un suo poema poema del cosmo che si faceva una gran difficoltà a tradurlo perché è molto grande e quindi un impegno finanziario che gli editori non volevano sobbarcarsi se non per farne un breve strato un'antologia minima e invece ecco devo dire che l'amico scrittore Fernandez Milton Fernandez con una sua piccola casa editrice si sobbarca l'onere e la fatica di traduzione si sobbarca con la traduttrice naturalmente ma credo che la sua perizia abbia dato il garbo finale e abbiamo adesso questo documento importante è la storia, la cosmogenesi e quindi un po' come sta la creazione la creazione del mondo vista da un poeta al quale non sfugge la nozione scientifica e in una chiave interpretativa sua mi viene in mente un po' Theard de Chardin naturalmente mentre penso a questi versi a questo cumulo a questa opera monumentale poetica finché arriviamo ai giorni nostri alla notizia della sua scomparsa che io ho avuto la fortuna di ricordare sulle pagine culturali agora del quotidiano avvenire proprio oggi che è la data del 3 marzo martedì 3 marzo del 2020 mentre lui se ne è andato se ne è andato due giorni fa ce lo ricordiamo me lo ricordo candidissimo con la sua barba bianca i suoi capelli bianchissimi la sua camicia bianca e il suo basco il suo basco di traverso un po' alla Che Guevara come i rivoluzionari del resto latino-americani e ricordo di lui appunto quest'uomo lo ricorderai come una nevicata perché è un uomo candido direi che ha attraversato una storia difficile quasi e terrorizzante in certi momenti portato a termine con questo grande complimento ma c'è di più che l'anno scorso 2019 Papa Francesco gli ha revocato la sospensione a Divinis che gli è stata combinata al suo tempo per la sua vicenda di governo sandinista e quindi lui era in ospedale e stando a letto con un pezzetto di pane dalla mensa ospedaliera un goccio di vino preso appunto dalla dispensa e ha celebrato una messa lì per lì ricordo perché ho visto le sequenze ricordo bene questa scena e ce lo ricordiamo così come il grande Ernesto per lì